che cos'è il black russian è un cocktail è formato come calua e panna calua è un cuore messicano si qualcosa del genere e non glielo saprei dire con estrema certezza comunque è un cocktail non c'era la vodka avvocato non sono barman non glielo saprei dire è molto buono comunque sì ma io non l'ho mai provato ma immagino che sia buono sì aveva questo è un po alcolico è un po impegnativo si ha mai avuto problemi di dipendenza o abuso di sostanze stupefacenti piuttosto che alcol sì quando giovedì scorso sicuramente ok non ci piove e in precedenza mai intrapreso percorsi terapeutici per il recupero della tossica dipendenza o altro se io mi definisco tossico indipendente grazie a tutti